Il portiere più forte, sarebbe facile dire Buffon, però io avevo una squadra, uno che se non è stato il più forte nel mondo, ci è andato vicino, che è Francesco Toldo, grandissimo portiere, è arrivato che era un ragazzo alla Frentina andato via, un signore, un grande portiere, però giocava con me, con Buffon invece ho fatto più, fatica, soprattutto all'inizio quando era a Parma era impressionante, non riuscivo a segnarli. Però poi mi sonri preso, con un grande Buffon.